con il professor Sandro Bellassai che è stato pronto nell'accettare questo nostro invito. Procediamo in questa maniera, io dico giusto due parole, noi in questi giorni stiamo trattando Sandro il tuo testo dopo aver fatto la parte più generale di storia delle donne e quindi diciamo adesso il seminario di oggi ci serve anche per poi continuare a lavorare sul tuo testo. Dunque di che si tratta? Beh noi lo sappiamo, chiaramente uscio un tono da lezione naturalmente. Ragazzi silenziate tutti i microfoni per favore. E non la prospettiva di genere, degli studi di genere. Nei fatti poi quando andiamo a guardare prevalentemente si tratta di Women's Studies. Certo ci si apre a tutta una serie di dimensioni nuove, i rapporti fra i generi, le forme di rappresentazione e narrazione dei generi, le loro specificità, le loro vulnerabilità. Però noi ce lo siamo detti anche a lezione, poco spazio ancora viene dedicato alla dimensione della mascolinità in quanto genere. Eppure parliamo e studiamo dei diritti umani, parliamo e studiamo della questione femminile, però resiste ancora un'immagine di mascolinità come genere neutro, no? Ogni comprensivo e non determinato al tempo stesso. Ogni comprensivo e non determinato al tempo stesso. Dice il professor Bellassai, una cosa molto molto efficace, tutti gli uomini sono uguali ma non tutti gli esseri umani sono uomini. Bene, gli studi del professor Bellassai sono fra i pochi che nella ricerca storica, nella riflessione storiografica, che danno un'attenzione specifica a questo tema. Proprio oggi noi abbiamo citato anche con l'approfondimento di Gabriele, è vero, gli studi di Mosse e di Bordieu, che però abordano il tema della mascolinità, non come oggetto specifico di studio, ma nel loro ragionamento, no? Per quello che a loro interessa, rispetto alle proprie, come dire, urgenze investigative e di riflessione. Allora, invece, guardate, a me importa anche molto questo, no? Metterla sul piano metodologico, perché la riflessione del professor Bellassai è innanzitutto, secondo me, un esercizio di metodo storico, che è una cosa come di importante anche dal punto di vista di chi vi sta insegnando un pezzetto di storia. Cioè, ci ricorda delle cose fondamentali, l'importanza di contestualizzare e periodizzare. E ci mette in guardia contro dei rischi frequenti, soprattutto negli studenti che si avvicinano, anche se in maniera più specialistica, a questa disciplina. Due rischi frequenti, dicevo, della percezione dei fenomeni storici. L'attualizzazione, no? C'è sempre questo rischio di, certo, noi leggiamo il passato a partire dal presente, tuttavia, come dire, riuscendo a contestualizzare e periodizzare. Però la tendenza, l'istinto, soprattutto poi per temi come questi che incrociano il dibattito pubblico, le urgenze del presente, è molto forte. E un altro rischio c'è che, appunto, questo tipo di riflessione invece tende a sventare. Cioè, l'idea di una storicità lineare, no? Che via via, come dire, votata al progresso, abbandona caratteri arcaici e va verso un avanzamento pur lento, sincopato, ma inesorabile. Potremmo dire verso sorti magnifiche e progressive. Che cosa ci propone questa lettura? Una lettura sessuata di un periodo preciso della storia occidentale, da un punto di vista politico, sociale e culturale, come dimensioni strettamente interconnesse, evidentemente. È un concetto centrale, che è un concetto anche questo, che gli studenti forse fate un po' fatica, noi ne abbiamo parlato, ma fate un po' fatica, come dire, mettere a fuoco, che è quello dell'invenzione, no? Di un modello culturale, pensiamo naturalmente a Hobsbom, di un paniere, di un agglomerato di simboli, di una narrazione, potremmo dire, dal forte valore performativo. Qual è l'invenzione in questo caso, appunto? L'invenzione della virilità e del suo straordinario e pervasivo successo, che coincide con un impianto politico, ideologico preciso, e produce vocabolario, e produce immagini, e produce comportamenti, scelte politiche, atteggiamenti. Tutto parte, ci spiega il professor Bellassai, da una crisi, da un nodo di paure, da un senso di smarrimento, dall'onda d'urto della modernità, sullo sfondo di un paradigma patriarcale, che noi tante volte facciamo riferimento anche a questo, a lezione, fiaccato sicuramente, ma che ha dei residui ancora forti. Anche questo è da tenere presente, la modernità, questo valore positivo che noi diamo alla modernità, ma la modernità ha in se stessa tutta una serie di germi, di crisi che possono avere, appunto, delle conseguenze, come in questo caso. E dunque, per metterla sul piano storico, ci spiega il professor Bellassai che questa invenzione della virilità si spiega alla luce dei mutamenti intervenuti nella società dalle ultime propaggini dello Stato liberale, fino a tempi, tutto sommato, assai vicini a noi. Che cosa viene fuori? Viene fuori un quadro che è, come dire, contraddittorio, ma solo in apparenza. Cioè, mentre gli stati generali, gli stati generali, scusate, come dire, deformazione da modernista, gli stati occidentali cominciano a ospitare fermenti nuovi, sollecitati dalle prime rivendicazioni femminili, che pure trovano un posto scomodo, sgrembo, instabile all'interno dei grandi movimenti di massa. E mentre anche il progresso tecnico-scientifico avanza, le stagioni coloniali allo stesso tempo selezionano e gerarchizzano un'umanità in forme nuove e ancora più incisive, sicuramente più aggressive. Insomma, non c'è pelvagio. L'altro è inferiore e da sottomettere e per farlo occorre utilizzare una forza che discende direttamente dai caratteri del genere, cioè quello maschile, spinto anche ai suoi eccessi quasi grotteschi. La, come dire, gerarchizzazione tipica della famiglia patriarcale, come dire, si esplode in qualche modo, potremmo dire oggi, appunto, con un termine, con un'attualizzazione un po' rischiosa, su scala globale, in qualche modo. Però la virilità non è evidentemente sola l'invenzione della virilità, una reazione all'irruzione della società di massa, del progresso, dell'emancipazione femminile, perché è anche altro, che è anche un altro elemento molto più delicato, più sottile e forse anche più critico. Cioè l'invenzione della virilità si giustifica anche di fronte a un'altra minaccia, forse in qualche modo concepita ancora più grave e più pericolosa del buon selvaggio di donne che si sono messe in testa di occupare la scena pubblica. E cioè una sorta di vandea, mi viene di dire, ancora da modernista. No, la vandea è la Francia rivoluzionare che si oppone alla Francia rivoluzionare, la Francia profonda che si oppone alla Francia profonda. In questo caso qual è la minaccia interna? Anche di questo capita spesso di parlare a lezione, anche prendendo esempi dall'oggi, ma non solo dall'oggi, no? Abbiamo visto anche esempi del genere fra nella famiglia Rocca di cui abbiamo un po' raccontato le vicende. Beh, la minaccia è quella della femminilizzazione della mascolinità, una sorta di ossimoro rispetto a certi canoni della mascolinità, quella che chiamiamo anche la mascolinità tenera. Bene, questo giusto per, come dire, avviare il discorso, ma naturalmente di questo il professor Benassane sa ben più che me e quindi approfittiamo della sua presenza per sentire appunto cosa e come ci vuole raccontare, diciamo, questo suo ambito importante di ricerca e di studio. Grazie, grazie Nostella. Mi sentite, spero, bene e se no manifestatevi in qualche modo. Innanzitutto grazie anche dell'invito. Sono molto contento di essere qui in un corso che, tra i pochissimi, per quello che so io, affronta in profondità queste questioni e mi fa molto piacere vedere anche una partecipazione abbastanza, io leggo qua 54 partecipanti che insomma non è scontato e non è uno scherzo. Spero di non annoiarvi troppo, anzi, dico subito che avevo pensato, ne ho parlato prima anche con la professoressa Carrino, di non parlare inizialmente tantissimo, farò un primo intervento di massimo una quarantina di minuti, spero, in modo da lasciare spazio poi a vostre domande, interventi, commenti, in risposta magari ai quali io poi posso approfondire alcuni specifici punti che magari nel primo giro, nella prima parte, diciamo così, per forza di cose, per motivi di tempo, tratterò un po' velocemente, un po' a volo d'uccello. Allora, la professoressa Carrino ha già detto praticamente tutto, già nelle, 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 queste parole di presentazione. Io partirei proprio da, da qui, dalle prime cose che, che ricordava lei, e cioè questa, questo strano statuto del genere maschile che praticamente nel senso comune passa come un genere che non è un genere, cioè questa capacità, questo privilegio, in realtà, questa facoltà, quindi come attributo del potere, come parte integrante della posizione dominante, del posizionamento di comando del genere maschile, di poter entrare e uscire dall'universale al particolare e quindi di potersi presentare come un soggetto neutro, cioè non marcato rispetto al genere, non sessuato, diciamo così, gendered si direbbe in inglese. Dall'altra parte, invece, abbiamo un genere femminile che appare immediatamente sempre rispetto al senso comune, marcato invece specificamente rispetto al genere. questo non riguarda, su queste cose per adesso non mi voglio dilungare perché immagino che magari ne abbiate già trattato durante il corso, magari qualcosina in più rispetto a riflessioni personali su questo dirò tra poco, però questo non riguarda solo questa situazione un po' strana e se vogliamo paradossale, cioè metà del genere umano che non viene percepito come un genere da se stesso e dal resto del mondo, possiamo dire anche spesso, e l'altra metà invece che è una metà che non è una metà praticamente quella maschile, non si capisce bene, è una cosa piuttosto illogica, ma non è l'unico dei paradossi di questa legittimazione della posizione dominante nel senso storico. Il problema è anche, cioè uno dei problemi è che questa situazione si riverbera anche dal punto di vista degli studi, degli studi su questo. Se noi diciamo studi di genere anche all'interno dell'università, dell'accademia, di chi insomma fa ricerca, molto spesso si intenderà automaticamente studi che riguardano le donne. Se io dico non so, studi di genere su un aspetto del Settecento o dell'Ottocento, la maggior parte delle persone come dire, spontaneamente intenderà che stiamo parlando di donne nel Settecento e nell'Ottocento. Quindi è una situazione che si ripropone anche tra chi diciamo si occupa anche di queste cose. Quindi genere uguale donne sostanzialmente. Questo è diciamo una specie di assioma che vale non dimostrato che va anzi illogico come ho detto prima che vale sia per il senso comune se vogliamo per la famosa casalinga di Voghera di Nanni Moretti sia per invece chi studia la casalinga di Voghera chi studia anche nelle aule università che scrive libri su questo. Perché questo? Perché succede questo? Perché innanzitutto perché storicamente il genere è un campo di ricerca che ha interessato soprattutto le donne il cui interesse principale era studiare le donne altre donne le donne del passato nel caso della storia e quindi come dire si è creata una specie di abitudine a questa equivalenza tra genere e donne però dipende anche da un disimpegno maschile dal mio punto di vista perché gli studi di genere sono percepiti dagli uomini giustamente possiamo dire come degli studi che hanno una contiguità molto forte con il femminismo quindi con un orizzonte critico politico anche militante soprattutto se guardiamo come dire ai primi anni che spaventa molto gli uomini cioè gli uomini storicamente hanno avuto e forse ancora hanno paura delle femministe cioè in generale io credo e ci tornerò su questo penso che il genere maschile ha paura del genere femminile diciamo come fondamento se vogliamo psichico collettivo su cui poi si costruiscono una serie di dinamiche storiche culturali ma anche politiche nelle società del passato e del presente a maggior ragione il genere maschile ha paura del femminismo perché il femminismo è quella parte del genere femminile che appunto mette precisamente in discussione i fondamenti dell'egimonia maschile cioè della supremazia di un genere quello maschile sull'altro quindi diciamo gli uomini si sono tenuti prudentemente dal loro punto di vista alla larga da questo ambito di studi insomma quello di genere anzi sono stati in molti casi ben contenti quasi in tutti i casi diciamo di non essere coinvolti dentro questo discorso perché perché quello del genere è un punto di vista un come dire un punto di partenza critico che inevitabilmente chiama in causa la relazione tra chi fa ricerca e l'oggetto della ricerca se io studio un oggetto del passato un'epoca non so l'antico Egitto forse neanche in quel caso funziona così anzi proprio no però insomma in qualche modo posso illudermi che mi sto occupando di qualcosa che non riguarda o riguarda pochissimo invece la mia vita la mia soggettività quello che io sono in quanto persona in questo caso in quanto maschio se studio invece diciamo un panorama del passato uno scenario storico che appunto fa della critica di una certa mascolinità patriarcale di un certo sistema ingiusto patriarcale di questa ingiustizia del dominio maschile ovviamente farò fatica a studiarla in maniera che non mi coinvolga in nessun modo ecco in qualche modo come per le donne accade studiando altre donne come dire c'è una circolarità delle questioni che si travasano come dire quasi automaticamente dal passato al presente insomma sono acquisizioni anche punti di vista che poi è difficile lasciare fuori dalla porta quando la sera magari torni a casa come lì nell'ufficio come se non fosse non fosse parte poi non potesse essere parte della tua vita cioè sono questioni che interrogano anche chi studia in qualche modo e non soltanto che interrogano appunto gli oggetti dello studio stesso per questo motivo c'è un altro motivo secondo me della diffidenza maschile verso gli studi di genere quindi di questo disimpegno di cui parlavo prima e cioè il fatto che gli studi di genere gli studi femministi più in generale soprattutto guardando al primo periodo diciamo gli anni 60 70 del 900 sono studi non soltanto nati al di fuori del tradizionale controllo maschile sul sapere il sapere ovviamente è stato un campo di pertinenza esclusiva storicamente maschile a un certo punto le donne hanno costruito a parte che la cosa non era vera neanche per il resto dei campi del sapere ma gli uomini hanno preferito pensarla in questo modo ma soprattutto le donne hanno costruito uno specifico approccio uno specifico panorama di studi appunto quelli femministi quelli sulle donne non soltanto al di fuori del tradizionale sapere maschile ma contro il tradizionale sapere maschile immagino sappiate una delle massime figure del femminismo italiano Carla Alonzi scrisse un famoso testo che si chiama sputiamo su Hegel ora a parte il titolo che magari scusate come dire magari un po' a effetto erano i primi anni settanta l'intento era chiaro quello di mettere in discussione come dire tutto una impalcatura di pensiero teorica filosofica che come dire era perfettamente congeniale a legittimare poi il dominio maschile quindi a maggior ragione come dire gli uomini si tengono alla larga da questo rischio da questo campo minato in cui rischiano poi di essere risucchiati e quindi di essere messi in discussione loro stessi e di dover mettere in discussione quelli che sono gli strumenti sessuati del loro mestiere perché poi la questione è anche questa quando noi tradizionalmente immaginiamo le donne dico tradizionalmente nel senso senso comune quando noi immaginiamo per esempio gli studi delle donne qualcuno può anche dentro l'università può beatamente illudersi che si tratta di un orticello in cui alcune donne un po' fanatiche un po' estremiste coltivano i loro studi su non so figure celebri pensatrici artiste del passato eccetera eccetera ma tutto sommato è un campo chiuso che non mette in discussione il resto del sapere naturalmente sbagliano quando studiano le donne con gli studi di genere quando si studia per esempio l'ambito della famiglia o quello delle relazioni tra generazioni all'interno della famiglia il corpo la sessualità ci si può illudere ripeto da parte secondo una visione tradizionale della storia molto maschile e molto maschilista ci si può illudere come dire che la vera storia la grande storia quella con la S maiuscola non ne venga in qualche modo intaccata quindi non sia messa in discussione nei suoi fondamenti anche appunto storiografici interpretativi con gli studi su un maschile questo non è possibile perché studiando gli uomini noi studiamo esattamente quell'ampio panorama soprattutto rispetto al passato quindi alla storia quell'ampio panorama che è diciamo il mondo l'universo dei prodotti maschili quindi praticamente non esiste a quel punto nessun campo che non possa essere studiato con una chiave di genere perché non esiste nessun ambito nessuno scenario in cui non ci siano o donne o uomini o uomini e donne quindi non esiste più niente che rimanga come dire immune da questo rischio di essere messo in discussione attraverso un approccio di genere se noi studiamo lo Stato se noi studiamo le guerre se noi studiamo le dinamiche dei sistemi politici del passato se noi studiamo l'arte diciamo mainstream quella che figura che è quasi tutta una galleria maschile non parliamo della filosofia che è una specie di corteo di figure di illustri pensatori tutti barbuti tutti coi baffi eccetera eccetera se noi studiamo il diritto l'economia eccetera eccetera insomma qualsiasi cosa noi studiamo nella sfera pubblica tradizionalmente noi incontriamo tutta una serie di figure maschili allora studiarle con un approccio di genere significa esattamente studiare esattamente forse non è la parola giusta ma diciamo si comincia a pensare anche in questi termini studiamo come dire l'impronta maschile che tutto questo scenario ha impresso su quelle istituzioni su quegli ambiti del sapere per cui il diritto oppure l'economia o se vogliamo la religione l'arte la letteratura la guerra la politica con la P maiuscola cioè stati governi i ministri i re imperatori eccetera noi facciamo emergere quanto c'è di maschile quanti codici maschili quante dinamiche anche di come dire autorassicurazione maschile e di legittimazione soprattutto dominio maschile figurano in quei circuiti che andiamo a studiare quindi li stiamo esattamente decostruendo rispetto al genere cosa che lo diceva appunto uno storico britannico che si chiama John Tosh già negli anni 90 quindi quasi 30 anni fa ormai alcuni storici tradizionalisti possono pensare appunto che gli studi delle donne rimangano confinati in quell'ambito in cui non danno fastidio alla storia con la S maiuscola con gli studi sugli uomini tutto questo non è più possibile perché è come se si rompessero gli argili cioè a quel punto l'approccio di genere dilaga praticamente in ogni piega della società umana del passato e del presente quindi addirittura Tosh concludeva forse un po' ottimisticamente per questo motivo si può dire che gli studi sulla mascolinità possono avere una portata rivoluzionaria rispetto ai tradizionali approcci storiografici addirittura maggiore rispetto agli studi delle donne per adesso non entriamo in questa questione che forse lascia un po' perplessi sicuramente dobbiamo dire gli studi sugli uomini gli studi sulle mascolinità sono stati e sono ancora oggi sicuramente come dire largamente debitori rispetto agli studi delle donne si può dire io credo che senza gli studi femministi senza gli studi delle donne semplicemente gli studi sugli uomini non sarebbero nati non sarebbero esistiti perché appunto storicamente è del soggetto femminile questa proposta di leggere in chiave di genere le dinamiche del potere a tutti i livelli nelle società del passato e del presente ed è poi questa acquisizione analitica interpretativa cioè di sessuare il discorso come diciamo le femministe e come dicono le femministe da 50 anni da 60 anni è diciamo il punto di partenza un po' cioè fare emergere quelle rilevanze sessuate quelle rilevanze che rimandano all'appartenenza di genere nei linguaggi nei comportamenti nelle scelte nelle paure anche che si fanno tanto da parte delle donne tanto da parte degli uomini ma ecco per gli uomini questo richiede come una specie di salto cognitivo in più perché è come se a occhio nudo l'uomo non apparisse come un soggetto marcato rispetto al genere quindi noi dobbiamo forzare un po' questo sguardo per leggerlo come un essere umano sessuato come la parte maschile dell'umanità e non come l'umanità per antonomasia in qualche modo a questo discorso che sto facendo adesso naturalmente molto rapidamente ma poi ripeto se volete possiamo tornare su ognuno di questi punti che sto trattando adesso a questo discorso è collegato è collegato alla questione molto importante dell'invisibilità del genere maschile in quanto tale che forse se ho capito bene avete già o state anche all'interno del corso quindi ne parlo dando per scontato insomma che un po' sapete di che cosa sto parlando ne parlo abbastanza velocemente questa questo privilegio del neutro fa sì che appunto gli uomini possano nascondere la propria identità di genere dietro una quinta dietro una specie di paravento appunto di di neutralità nella lingua è chiarissimo in tante lingue è così diciamo diritti dell'uomo per dire diritti dell'umanità ma se diciamo diritti delle donne intendiamo i diritti di metà nella parte della società dell'umanità quella femminile se dicessimo diritti delle donne nessuno capirebbe diritti dell'umanità perché le donne sono donne e umanità è qualcosa che stride con il nostro senso comune quindi è necessario per fare emergere questa rilevanza sessuale di ciò che gli uomini fanno sono e dicono uno sguardo come dire che si sforza un po' di appunto scorgere delle rilevanze sessuale in quello che si va a osservare in quello che si va a studiare faccio subito un esempio così magari il discorso può essere un po' meno nebuloso se noi andiamo a studiare per esempio le guerre per esempio le grandi guerre del novecento cosa che naturalmente non cominciamo a fare noi sono state studiate in mille modi ma solo raramente sono state viste come una grande impresa maschile in qualche modo cioè dove gli uomini mettono in gioco qualcosa di importante che riguarda proprio la loro identità di genere e non solo la loro identità nazionale magari siamo automaticamente più portati naturalmente a collegare l'identità di chi combatte in guerra con i nazionalismi quindi io sono un soldato sono italiano piuttosto che francese piuttosto che austriaco per esempio nella grande guerra ed è questo quello che mi interessa studiare se voglio fare una storia culturale della grande guerra noi vediamo invece ma ci vuole appunto un piccolo sforzo per vederlo che nella guerra nella grande guerra per esempio circolano immagini che rimandano alla virilità che rimandano a una mascolinità appunto esasperata e non c'è uomo più maschio più virile del guerriero naturalmente che è l'icona diciamo massima della virilità e gli uomini in questa impresa cercano una specie di come dire reintegrazione restaurazione di questa integrità maschile che si percepisce un po' a rischio che si è percepita a rischio nei decenni precedenti quelli della belle epoche tra fine ottocento e primi ottocento allora con questo esempio io sono già sbarcato diciamo così in una precisa precisa per modo di dire ma insomma in uno scenario storico in un passaggio storico che dal mio punto di vista è molto importante in questa storia cioè quella della fine ottocento diciamo dell'ultimo ottocento e dei primi del novecento è qui che c'è la percezione da parte di moltissimi uomini in occidente e parlo di uomini eterosessuali che si sentono come dire tesi verso questo modello ortodosso di mascolinità che sono bianchi appartenenti quasi sempre alle classi superiori o alle classi intellettuali quindi tutto sommato una minoranza per le società dell'epoca che erano ancora in gran parte rurali contadine pensate al tasso di analfabetismo che c'è a fine ottocento ancora in Italia questi uomini percepiscono la propria epoca l'epoca che stanno vivendo come un passaggio epocale in cui la loro identità di maschi l'identità dell'intero genere maschile l'integrità dell'intero genere maschile il potere del genere maschile nella società sia minacciato da trasformazioni profondissime e da novità storiche molto importanti la prima di queste novità è l'emergere dei movimenti femministi qui la datazione e la periodizzazione cambia da paese a paese ma diciamo che sicuramente in tutti i paesi occidentali ma non solo occidentali c'è per esempio un femminismo molto importante per dire in Egitto all'inizio del novecento ma insomma rimaniamo all'occidente a fine ottocento noi troviamo praticamente ovunque le donne organizzate in associazioni gruppi per rivendicare in maniera collettiva maggiori diritti una minore disuguaglianza diritti civili diritti sociali e poi diritti politici cioè il suffraggio più avanti tra fine novecento e primi ottocento ora teniamo presente che questo fenomeno cioè quello di queste queste schiere di amazzoni dal punto di vista di questi uomini spaventati a fine ottocento che avanzano verso il genere maschile per castrarlo per distruggerlo per sottometterlo eccetera è un fenomeno totalmente inedito nella storia umana cioè non si era dice George Moss non si era mai visto a misura d'uomo niente del genere cioè dei movimenti femministi che mettessero in discussione l'egemonia del maschio c'erano state naturalmente filosofi artisti scrittrici pensatrici ma erano più che altro figure singole la grande novità epocale e che adesso le donne si organizzano si coalizzano per come dire contestare in modo organizzato in modo sistematico il privilegio la supremazia maschile questa è una situazione che getta letteralmente nel panico tantissimi uomini per reagire a questa situazione di minaccia di crisi di insicurezza diffusa nel genere maschile la soluzione migliore sembra proprio quella di rilanciare i termini più tradizionali della mascolinità dominante e che cosa c'è di più tradizionale di più rassicurante appunto della virilità per quello io parlo di invenzione della virilità naturalmente la virilità come parola come concetto esisteva ben prima della fine dell'ottocento ma si scopre come dire una valenza politica che prima non aveva a fine ottocento di questo termine quindi noi abbiamo per esempio nei movimenti ma è solo un esempio nei movimenti nazionalisti che si sviluppano un po' ovunque tra otto e novecento un surplus di linguaggio iper virile cioè dove questa virilità ostentata è chiaramente un valore politico non è semplicemente come dire una pennellata di colore pensiamo a movimenti letterali come il futurismo per esempio nel primo decennio del novecento ma insomma si potrebbero fare tanti altri esempi da questo punto di vista allora la catastrofe della grande guerra che dopo verrà percepita come catastrofe ma che quando scoppia viene percepita da tanti uomini anche e soprattutto giovani come una specie di festa finalmente una festa virile in cui si ritrova diciamo così il profilo maschio che si temeva perduto appunto in queste oscillazioni troppo moderne troppo civili dei decenni precedenti e con la guerra sembra rimettere le cose al loro posto tra virgolette naturale cioè gli uomini al fronte a combattere con le armi in pugno le donne a casa a badare alla famiglia insomma a proteggere l'ambito domestico quindi in qualche modo il linguaggio il codice di genere della guerra è perfettamente congeniale e non è un caso a questa immagine di riscossa della virilità con questo naturalmente non sto dicendo che la grande guerra per esempio scoppia per questi motivi naturalmente le cause sono tante e abbracciano diverse dimensioni economica sociale geopolitica eccetera ma secondo me non è trascurabile diciamo questo afflato di entusiasmo maschile di uomini che vedono nella guerra nel bagno di sangue nella violenza e nella conquista un'occasione terapeutica letteralmente ci sono tante testimonianze che ci parlano proprio in questi termini allora in questo periodo io potrei farvi magari qualche citazione facendo qualche passo indietro vi vi leggo alcune parole di uomini il primo brano è dell'anno 1900 e poi passiamo attraverso il fascismo e poi arriviamo agli anni 50 del novecento per farvi vedere come dire la continuità dal mio punto di vista pur naturalmente con tutti i cambiamenti di contesto perché non si può dire che gli anni 50 vedano una società identica a quella di 50 anni prima però diciamo c'è questo filo rosso sempre di questa difesa oltranza della virilità come valore che significa difesa oltranza del privilegio maschile all'interno di questa grande trasformazione moderna che secondo me si può leggere attraverso queste parole allora la prima citazione è di un uomo politico polacco che parla nel 1900 e anche un sacerdote nella storia della Polonia come dire religione politica si fondono molto molto profondamente si chiama padre Kaplansky che scrive ripeto nell'anno 1900 sotto il pretesto di uguali diritti le donne vogliono oggi raggiungere il dominio sugli uomini se ciò si verificasse la nostra nazione si troverebbe ad affrontare una catastrofe ancora più grande di quella della divisione che nella storia polacca non è una questione da poco infatti se questo insano principio si diffonderà se le donne tenteranno veramente di governare con la scusa degli uguali diritti la loro antipatia nei confronti degli uomini si rafforzerà e gli uomini perderanno il rispetto e l'ammirazione nei confronti delle donne per paura che tocchi loro in moglie una donna emancipata la paura impedirà loro di sposarsi regneranno l'immoralità e la mancanza di progenie la depravazione degli uomini condurrà al declino della famiglia alla degradazione della società e alla perdita del paese per questo motivo per questo motivo l'emancipazione femminile è il nemico mortale di ogni nazione quindi vedete dei toni che a dir poco si possono chiamare apocalittici cioè semplicemente l'apocalisse ma questo è uno tra i mille veramente esempi che possiamo fare di queste voci nel periodo della cosiddetta belle époque cioè tra più o meno gli anni 70 dell'ottocento fino all'alba della grande guerra nel 1914 cioè di uomini che disegnano questa avanzata delle valchirie come semplicemente la promessa l'annuncio di una nuova apocalisse per la specie umana questo discorso naturalmente non questo tipo di di motivo retorico misogino fortemente misogino naturalmente non si attenua nel ventennio fascista anzi il fascismo è un regime che fa di questa restaurazione virile esplicitamente una delle colonne uno dei pilastri della propria politica nazionale scrive siamo nel 1938 Ferdinando Loffredo la donna deve tornare sotto la sudditanza assoluta dell'uomo tornare attenzione ricordiamoci questo verbo padre o marito sudditanza e quindi inferiorità spirituale culturale ed economica si tratta di sanzionare il principio volerlo diffuso ad opera di tutti gli strumenti di circolazione delle idee darne tutte le necessarie giustificazioni suggestionarne la pubblica opinione rafforzarlo mediante provvedimenti quale la modificazione dei programmi di istruzione femminile il divieto di occupazione femminile il divieto dello sport femminile la severa sanzione degli affronti al pudore alla modestia eccetera allora parte di questo programma verrà perlomeno sulla carta in effetti realizzato cioè per esempio tra metà anni venti e anni trenta ci sono tutta una serie di leggi o di regolamenti varati al regime fascista che vogliono contenere anzi far diminuire il tasso di occupazione femminile in alcune aziende in alcuni settori economici ma anche per esempio nell'istruzione per cui le donne non possono fare le presidi non possono insegnare nei licei eccetera eccetera altre rimarranno più o meno sulla carta ma qui qual è il fantasma che impaurisce questi fascisti vedete che lui usa questo termine tornare la donna deve tornare cioè c'è come a fine ottocento una oggi si direbbe narrazione molto in voga questo tema diciamo una rappresentazione mi piace un po' di più tale per cui del mutamento in corso tale per cui le donne hanno guadagnato troppo terreno rispetto a quello che sarebbe l'equilibrio naturale diciamo del rapporto di potere tra i generi e quindi bisogna in qualche modo ricacciarle indietro il fascismo naturalmente non si tira indietro scusate il gioco di parole in questa impresa e quindi chiama sempre con toni apocalittici alle armi diciamo così gli uomini perché insomma attivamente si facciano apostoli di questo di questa missione storica saltiamo di un ventennio agli anni 50 siamo sempre in Italia questo è un articolo del settimanale l'europeo un settimanale che credo esiste ancora oggi o comunque esisteva fino a tempi molto recenti e scrive un certo Enrico Gianeri siamo nel novembre del 1958 in questo dopoguerra è stata profonda l'influenza della donna mantide la mantide religiosa cioè quello insetto che è una delle icone della misoginia maschile questo insetto che prima si accoppia col maschio e poi lo divora questo succede più terribile quindi è stata profonda l'influenza della donna mantide americana qui naturalmente ormai siamo di fronte a questa società americana descritta come la società degenerata negli anni 50 degenerata per definizione protestante insomma dove si divorzia ogni due settimane eccetera gli Stati Uniti hanno sommerso l'Europa anche e soprattutto di scrive ginecrazia concentrata ginecrazia questo termine un po' strano che vorrebbe dire potere delle donne ovviamente il maschio americano ha ormai dichiarato forfè cioè si è arreso ha gettato la spugna e ha raccolto lo strofinaccio di cucina oggi in america continua sono le ragazze a condurre il gioco secondo gli studi scientifici di psicologi e psicanalisti eccetera e costringono l'uomo sempre le ragazze a difendersi con logore astuzie femminili quindi gli uomini si femminilizzano da cacciatore l'uomo è diventato selvaggina secondo il dottor Schindler che non sa chi è ma fa sempre una bella figura a citare la donna americana di oggi è un essere assolutamente nuovo e l'america si prepara a una struttura sociale di uomini donna e donne maschio poi infine l'ultima mazzata è una citazione di un certo Sir Arthur Keat citato come presidente dell'associazione britannica di antropologia che dice lapidariamente la femmina finirà con l'eliminare il maschio quindi vedete anche qui non si scherza quanto a toni apocalittici quindi c'è questa vena diciamo misogino apocalittica a dire poco che attraversa tante voci maschili tante generazioni maschili dalla belle epoche fino agli anni 50 questa retorica misogina si nutre anche di un certo codice antimodernista negli anni 50 questo è ancora possibile il riferimento agli Stati Uniti negli anni 50 è una metafora in realtà perché poi pochi sanno effettivamente cosa succede negli Stati Uniti o si raccontano cose assolutamente improbabili oggi le chiameremmo fake news ma sono proiezioni di paure rispetto al futuro perché gli Stati Uniti sono percepiti fino agli anni 50 e 60 inoltrati come quella sfera di cristallo in cui leggere quello che noi saremo tra 20 anni tra 15 anni quindi sono un'anticipazione del futuro sono il paese più avanzato al mondo da un punto di vista naturalmente in una logica di guerra fredda del cosiddetto mondo libero cioè del mondo capitalista cioè succede oggi lì quello che domani succederà a noi se non facciamo qualcosa ecco quindi questa lettura del futuro come una prospettiva che ci femminilizzerà quindi che ci castrerà letteralmente ci svirilizza sostanzialmente in quanto maschi perché poi quando si dice che la società si femminilizza che cosa vuol dire metà della società è già femmina se vogliamo proprio seguire questa logica quindi è chiaro che si sta parlando senza dirlo ancora una volta questa invisibilità del maschile in quanto tale del soggetto maschile del genere maschile che rischia di femminilizzarsi e quindi in una logica gerarchica in cui l'uomo è superiore e la donna è inferiore rischia di degradarsi naturalmente quindi di scendere diciamo nella scala darwinianamente evolutiva allora questa vena antimodernista che è chiarissima ripeto dalla fine dell'ottocento fino agli anni 50-60 del novecento legge la libertà delle donne l'emancipazione femminile come si dice fino appunto a quel periodo come una specie di frutto amaro del progresso quindi va benissimo il progresso naturalmente chi è che si sogna di arrestarlo eccetera ma bisogna stare attenti perché il progresso porta pure dei frutti avvelenati sicuramente se non il principale uno dei principali frutti avvelenati è il principio di uguaglianza che viene appunto dall'illuminismo dalla rivoluzione francese per non andare assicente al giusnaturalismo ma insomma diciamo in termini di teoria politica sicuramente dalla rivoluzione francese in avanti per cui non sarebbero più difendibili le naturali gerarchie sociali per cui esiste l'inferiore e il superiore io ricordo un racconto di Leonardo Sciascia che diceva c'era questo anziano signore nel circolo dei nobili suo paese in Sicilia che diceva questi sono tempi grami in cui un gentiluomo non può neanche più prendere a calci un contadino senza essere ecco il contadino è come il cane come dare un calcio al cane all'asino eccetera una bestia quindi queste gerarchie sociali proprio come quasi gerarchie zoologiche di razza di specie superiore e inferiore naturalmente stesso anzi peggiore discorso facciamo riguardo le gerarchie di razza tra virgolette e non diversissimi accenti ci sono sulle gerarchie di genere tanto è vero che appunto dalla fine dell'ottocento in avanti è normale ma lo dirà anche l'ombroso fra i tanti dire che le donne sono sostanzialmente l'anello di congiunzione tra l'uomo e la scimmia nella scala evolutiva darwiniana ma sto divagando vedo che sono le 6 e 20 quindi mi avvio a concludere almeno questa prima parte di discorso arrivando appunto a quello che succede dopo gli anni 50 e 60 quello che succede almeno nel contesto italiano ma non succede solo in Italia è che la società italiana conosce una grande rivoluzione sociale e socio economica diciamo con il miracolo economico tra fine anni 50 e anni 60 quindi c'è un insieme di processi di modernizzazione accelerati e profondissimi pensiamo semplicemente al trasferimento di popolazione dalle campagne ai centri urbani o al passaggio di mano d'opera dal settore primario l'agricoltura al settore industriale al terziario e ai servizi con un grande aumento dell'occupazione femminile anche quindi una vera e propria rivoluzione l'Italia smette di essere un paese agricolo industriale e diventa una società tra virgolette moderna pienamente industriale a questo punto nessuno può più come dire parlare impunemente della modernità come qualcosa di indesiderabile perché la modernità diventa qualcosa che distribuisce i suoi frutti preziosi anche diciamo a fasce di popolazione che prima non erano toccate quindi il cafone meridionale trasferitosi al nord a Milano a Torino nelle grandi industrie può vivere non più in una caverna ma può vivere in un appartamento dove c'è addirittura il bagno addirittura l'acqua corrente può permettersi magari con tanti sacrifici di comprare la sera 600 di mangiare carne una volta al mese insomma veramente sembra il congeto definitivo da quella miseria che per millenni come dire è stata la condanna senza uscita di quella generale a questo punto prendersela con la modernità diventa qualcosa di poco spendibile tra l'altro questo tutto questo processo soprattutto in Italia si basa sull'espansione dei beni di consumo privati cioè sulla possibilità per fasce crescenti di popolazione di potersi comprare appunto la lavatrice la televisione la sericento eccetera eccetera quindi ma non solo perché in realtà questo neocapitalismo come si chiama si rivolge moltissimo con la pubblicità e i nuovi prodotti diciamo dei beni di consumi di massa alle donne e quindi costruisce letteralmente la figura della consumatrice come una piccola imprenditrice del consumo quindi la casalinga per esempio è chiamata a scegliere quando va al supermercato tra diversi tipi di detersivo e c'è la pubblicità che le dice quale deve scegliere se è una brava cioè quindi c'è una valorizzazione diciamo così del protagonismo femminile anche se naturalmente in funzione estremamente subalterna all'interno della famiglia ma anche in alcuni casi soprattutto per la classe media un consumo diciamo voluttuario le calze di nylon il rossetto la borsettina il vestito le scarpe eccetera cioè qualcosa che prima era semplicemente un sogno per la stragrande maggioranza della popolazione femminile che viveva come dire con le ginocchia affondate nel fango nelle campagne a zappare la terra quindi c'è una l'eliminazione diciamo di quella tradizionale mediazione tra il mercato e l'autorità maschile le donne sono incoraggiate dal neocapitalismo dalla società dei consumi a avere una certa autonomia e il loro desiderio di lusso è in qualche modo anche legittimato proprio da questo quindi vedete potrei continuare poi a lungo anche con un'etica della morale sessuale nelle famiglie inurbate che è molto più liberale e tollerante di quelle del paesino del villaggio del sud di montagna cioè la modernizzazione in qualche modo liberalizza le identità e le relazioni di genere le rende meno tirannicamente patriarcali rispetto al passato la famiglia patriarcale è una famiglia di cattivi consumatori dal punto di vista della logica del sistema neocapitalista tutto questo mette in crisi la tradizionale figura maschile appunto che deve avere ancora tutto in mano quella che appunto il fascismo aveva esaltato trionfalmente questo è un primo colpo durissimo all'equilibrio maschile tradizionale e a quella illusione che appunto era cominciata a fine ottocento di rilanciare la virilità come diciamo identità maschile come profilo identitario maschile protetto dalla modernità dall'opera disgregatrice e diciamo equalizzatrice della modernità questo progetto sostanzialmente si vede che comincia a fallire proprio lì ma fallirà e sì questo a questo punto sarà chiarissimo nel decennio successivo degli anni 70 che sono il decennio della grande esplosione del femminismo del neo femminismo quindi di quella nuova ondata di femminismo che stavolta non si accontenta di chiedere l'emancipazione cioè come dire tagliando scusate con l'accetta spazi maggiori per le donne una maggiore dignità sociale riconosciuta soggetto femminile ma si propone di mettere in discussione alle fondamenta l'intero ordine sociale come un ordine costruito a immagine e somiglianza del soggetto maschile da cui le donne sono per definizione escluse o incluse in maniera soltanto subalterna quindi da quel momento in poi come dire dagli anni 70 in avanti gli uomini noi uomini in genere maschile si potrebbe dire brancola nel buio cercando una specie di paradiso terrestre virile ormai definitivamente perduto ma il richiamo della foresta della masculinità forte l'uomo che non deve chiedere diceva una pubblicità degli anni 70 e 80 è ancora molto forte a livello mediatico ma in qualche modo quella libertà femminile che le donne hanno conquistato a partire appunto dalle lotte di secoli si può dire ma sicuramente degli ultimi decenni è qualcosa su cui è molto molto difficile ricacciarle indietro perché non sono più spendibili quelle retoriche viriliste misogine forse natamente misogine tirannicamente patriarcali che avevano dominato per tantissimi decenni quindi dei loro padri e dei loro nonni e questa libertà femminile e qui magari adesso mi taccio è esattamente e torno al discorso di partenza ciò che rende possibile l'emergere degli studi sulla masculinità perché nel momento in cui esiste una situazione di dominio diciamo incontestato sostanzialmente del genere maschile si verifica una situazione per cui l'occhio maschile abbraccia tutto il paesaggio sociale e umano fino all'orizzonte ma non può vedere se stesso naturalmente gli altri possono vedere noi ma l'unico altro cioè l'altra che esiste dal punto di vista del genere l'umanità è appunto il soggetto femminile e allo sguardo delle donne non era mai stata riconosciuta non dico pari dignità ma insomma valore e dignità sociale sufficiente quello che succede con il neofemminismo e comunque con le lotte femministe dei vari decenni è che le donne come dire conquistano e in qualche modo impongono un proprio sguardo autorevole nella società quindi gli uomini grazie alla libertà femminile a questo aumento a questo guadagno di libertà femminile non possono più evitare di essere guardati in quanto uomini e in qualche modo di riflesso anche a vedersi con gli occhi dell'altra perché la voce femminile che restituisce questo sguardo adesso ha maggiore cittadinanza rispetto a prima quindi è dalla libertà femminile che nascono gli studi degli uomini questo è molto importante ricordarlo anche sul piano storico ho detto molte cose veramente come dire a stampatello cioè in maniera veramente molto rozzo e molto veloce però per adesso mi fermerei qui e confido magari in vostre domande o in vostri interventi per poter se volete approfondire alcuni aspetti delle cose che ho detto o altre cose che non c'è stato il tempo di dire grazie mille perché appunto hai messo in campo tantissime suggestioni alcune come dire già abbossate a lezione altre assolutamente no quindi credo che per gli studenti questo primo giro di tavolo diciamo così sia prezioso io ti ho ascoltato a mia volta con molta attenzione anche proprio per una serie di immagini e di spunti molto efficaci mi pare che tu hai dato anche questa idea di forzare lo sguardo per andare a guardare la parte appunto sessuata dell'umanità ecco io pensavo da questo punto di vista gli studi di genere a quello che tu ricevi come molto spesso orticelli che non toccano la grande storia si vabbè giocate diciamo qui discoste non date fastidio questo credo che sia ancora un grosso problema cioè non si sa raccontare la storia includendo quando occorre evidentemente la prospettiva di genere e per esempio questo ancora mi pare molto evidente nei manuali scolastici scolastici universali nei manuali in cui abbiamo anche poi su ma questo non riguarda solamente l'Italia penso alla Francia per esempio ci sono spinte ministeriali anche dall'alto a includere al politicamente corretto sostanzialmente che poi si traducono in un box di approfondimento in un capitolo finale le donne nella letteratura del novecento le donne nella grande guerra che chiaramente saranno sempre in ruoli ancillari come nella nella seconda la staffetta partigiana come nel grande brigantaggio se c'è la donna e la druda del brigante eccetera mettiamole perché come dire pare brutto non metterle ma la difficoltà forte resta di proprio reimpostare il discorso con lo sguardo che dovrebbe essere quello sì naturale cioè appunto abbracciamo il genere umano e vediamo andiamo andiamoli a vedere andiamoli andiamoli a osservare questo mi pare che ancora davvero nell'insegnamento proprio della storia così come c'è l'altro no? che viene viene un po' abbandonato noi facciamo storia d'Europa ma facciamo soprattutto storia occidentale per cui andiamo andiamo veloci sui capitoli che non riguardano il grande il grande occidente allo stesso modo andiamo in maniera rapida sulle le faccende appunto in questo caso di genere non non riusciamo a come dire dar conto anche di questa accelerazione di cui tu hai individuato i passaggi otto novecenteschi nei mutamenti dei rapporti di genere e a proposito di vado veramente salto di palo in frasca perché è così per raccogliere solo alcune delle tue delle tue suggestioni in effetti a proposito del femminismo io credo che l'onda d'urto appunto del femminismo e del primo femminismo che poi evidentemente ha un ruolo importante insomma femminismo da una parte interessa della storia sociale dall'altra poi producono gli studi delle donne gli studi di genere ragazzi in lezione questa cosa ce la siamo detta così come il professor Bellassai ha fatto riferimento al linguaggio noi la prima lezione di quest'anno l'abbiamo fatta sul linguaggio e su tutta una serie di come dire discriminazioni di genere involontarie che noi continuiamo a compiere pur essendo animati e animate dalle migliori intenzioni ma una serie di trappole in cui noi ancora continuiamo a cadere ora per quel che riguarda il femminismo soprattutto il primo femminismo e qui mi piacerebbe anche sentire te ma anche le altre colleghe che sono collegate ha portato appunto c'è questa idea della parità che è un concetto che credo bisogna abbandonare perché il problema è l'esaltazione della diversità della complementarietà non dell'omologazione e dunque io mi ricordo questo libro Volevo i pantaloni che chiaramente è un'immagine forte ma appunto anche l'uso da un lato l'abbiamo letto a lezioni credo dei pantaloni quindi assumere un look come dire più autorevole in qualche modo più anche emancipato e al tempo stesso una minigonna e quindi che va contro naturalmente i dettami di una certa famiglia che voleva la ragazza anche abbigliata in un certo modo eccetera ora io ho l'impressione che una delle manifestazioni delle narrazioni quasi del primo femminismo sia stato quello oltre a questo concetto della parità che credo sia abbastanza superato ma è anche superato credo quest'altro elemento della maschilinizzazione della donna cioè questa idea che la donna per fare questa battaglia in qualche modo cadeva nella stessa trappola da cui voleva salvare l'umanità e cioè di assumere in qualche misura sembianze maschili insomma il rogo dei reggiseni il modo di atteggiarsi ma io stessa mi ricordo che c'è stata una fase della mia gioventù in cui eravamo omologati ragazzi e ragazze avevamo dovevamo avere lo stesso look quasi ad avere paura della propria femminilità quindi questa maschilizzazione credo che anche questa forse sia stata superata ecco lo credo ma te lo chiedo e lo chiedo anche alle colleghe che fra l'altro appunto non sono qua per caso perché sono anche interessate sia didatticamente che scientificamente a queste a queste questioni ma io non so allora non preferirei non rispondere subito a parte che preferirei lasciare spazio appunto se ci sono ad altre persone che poi io ho già parlato tanto vorrei anche dialogare se volete certo certo ma ma se ci sono magari anche altre suggestioni domande da parte di studentesse e studenti magari io posso fare poi un secondo giro unico invece che va bene sì 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 mi pare mi pare giusto certo bene ragazze e ragazzi c'è Claudia Villani ah io non vedo le ah sì sì giusto giusto dopo ci sono anch'io però non ho trovato la manina quindi mi prendo vabbè appunto andiamo andiamo all'antica diciamo Claudia Villani tra l'altro è una collega contemporaneista Sandro dove ci sono le reazioni lì c'è la manina la possibilità di alzare la mano vabbè dai Claudia due domande sono molto molto curiosa perché sono stata stimolata proprio dalle cose che ha detto Stefano Bellassai la prima è su su un aspetto in particolare negli anni 20 negli anni 30 le citazioni che ha letto sono veramente molto molto interessanti questa paura della modernizzazione e quindi della perdita del ruolo che proviene poi dal modello dal confronto con il modello americano mi sembra molto interessante e volevo chiedere c'è tutto un ragionamento che ha a che fare poi invece con la differenza di costruzione culturale legata alla posizione nella società le donne di una certa provenienza sociale anche durante il fascismo ecco ma anche nelle altre sfere erano molto più libere non erano soggette non si sentivano ecco vincolate a modelli così così chiusi come quelli che proponeva il regime cioè c'è un legame anche tra collocazione sociale e costruzione dell'immagine e del proprio ruolo volevo capire se nella tua analisi nelle tue ricostruzioni questo tipo di legame tra collocazione sociale e costruzione del genere c'è anche dal lato maschile e dove lo vede se lo vedi e poi legame portando avanti il discorso che facevi il legame tra americanizzazione modello americano e ruolo di genere ecco negli anni 50 e 60 quando questa cosa comincia a diventare forte anche in Italia possiamo fare una periodizzazione perché le immagini delle donne americane e delle pubblicità americane comunque costruiscono dei ruoli che sono in qualche modo ancora figli di una visione del passato forse c'è una periodizzazione da fare molto importante che tu stessi appunto accennato dagli anni 70 in poi ma ecco anche da questo punto di vista mi incuriosiva perché ecco i protocalchi femminili di grandi la donna che sceglie l'elettrodomestico ecco mi sembra ancora qualcosa che ha delle continuità forti con il passato e quindi volevo sapere la tua opinione anche su questo ecco forse c'era più coscienza negli anni 20-30 che che dopo però ecco sono suggestioni derivate dalle cose che hai detto grazie Lea e poi Lucia Boschetti allora intanto grazie veramente grazie di questa occasione di scambio di incontro molto molto interessante e io vorrei dire due cose soprattutto la prima è che del tuo discorso fra le tante cose mi ha interessato molto mi ha stimolato molto a questa ricerca dei grandi agenti storici che determinano le trasformazioni le modificazioni e quindi appunto sembra un po' paradossale come negli anni 50 alcuni dei grandi agenti storici che funzionano che hanno un ruolo nella determinazione del passaggio di di posizione nella storia per quanto riguarda le donne sono degli agenti storici contrastanti cioè da un lato c'è l'americanizzazione della società che quindi è un un impulso di tipo liberale e neocapitalista che agisce appunto nel trasformare la donna da fattrice in consumatrice e quindi l'america gli stati uniti visti come diciamo luogo della corruzione dei costumi italiani tradizionali dei costumi europei tradizionali dall'altro però l'america è anche il luogo della conservazione perché è attraverso l'alleanza con l'america che l'italia costruisce l'anticomunismo laddove è in ambito comunista che nasce il primo femminismo in ambito di sinistra e quindi c'è un un doppio ruolo del modello americano da questo punto di vista e anche dal punto di vista cattolico no il cattolicesimo tradizionale degli anni 50 e 60 è quello che appunto ripropone la donna nel dopoguerra come angelo del focolare la madre di famiglia ci sono ancora c'è il catechismo delle madri negli anni 50 e 60 eccetera però quell'orientamento conservatore fa riferimento politicamente all'orientamento tra virgolette progressista del modello americano e quindi gli enti diciamo così gli agenti storici di questa di queste trasformazioni sono anche molto in conflitto tra loro se li leggiamo su un piano ideologico quindi vediamo come veramente è una è un insieme di stimoli estremamente diversificato e differenziato quello che porta alla nuova situazione e per nuova situazione diciamo mi riferisco a quella dal 68 in poi quello che fondamentalmente divide è l'idea che nella donna risieda la natura nell'uomo la storia cioè la donna è appunto qualcosa che è rimasta legata alla natura perché procrea alle mestruazioni sanguina l'uomo invece fa la storia perché non è soggetto ai ritmi della luna questo rimane quindi è un grande una grande domanda della storia della scienza e così via però io ti domando questo eh stante il fatto che come tu hai detto questa consapevolezza del maschile nasce dal femminismo no? perché è il femminismo che rompe l'uno l'universalismo maschile viene rotto dal dualismo femminile il femminile introduce l'idea che diciamo l'umanità non è soltanto fatta da uomini come si costruisce un maschile contemporaneo a partire da questa consapevolezza visto che sono ormai 60 anni che questa consapevolezza va crescendo dunque c'è Lucia Boschetti che è una dottoranda del del curriculum di storia del del di ma è anche una un insegnante buonasera parlando dei manuali Lucia ovviamente pensavo a te con Lucia abbiamo fatto un lavoro sui sui manuali scolastici e anzi io ci ho pensato proprio perché ho visto che che eri che eri presente prego sì grazie ho trovato molto interessante l'intervento la ringrazio la mia domanda è abbastanza circoscritta in realtà cioè quando ho parlato di valenza politica della virilità volevo sapere se ci può dire qualcosa di più sulle forme che questa assume nella Russia comunista nel senso che abbiamo visto esempi che fino ad est si sono spinti con la Polonia ma chiaramente strettamente legati insomma alla matrice cattolica e quindi le chiedevo un approfondimento sulle forme specifiche di di questa iperviliarità nell'ambito comunista io pensavo a qualche citazione a proposito delle compagnie al ciclostile del ruolo al ciclostile delle compagnie in Italia però la domanda riguarda proprio il mondo russo ecco grazie allora non ci sono altre perlomeno per adesso altri interventi che se non ci sono diamo di nuovo la parola al professor Bellassai che l'abbiamo abbastanza bombardato in effetti ma pensateci intanto intanto che ascoltiamo la replica del professore così se poi c'è qualche qualche intervento intanto vi ringrazio di questo bombardamento sono d'accordo che è un bombardamento perché avete tirato fuori un sacco di questioni domande interrogativi meravigliosamente interessanti cercherò di essere breve perché davvero ci sarebbe tantissimo da dire comincio dalla fine questa cosa della mascolinità virilità e unione sovietica o in generale culture comuniste per diversi periodi e su questo piano dell'identità di genere non sempre sono così diversi questi modelli di genere maschile tra un paese e l'altro e mi interessa molto anche perché ci ho lavorato tantissimo tempo fa ho fatto una ricerca in chiave di genere sul privato comunista un libro che poi si chiamò la morale comunista io credo che sì come anche si diceva in una domanda precedente nella sinistra è sempre stato forte dalla fine dell'ottocento naturalmente nel movimento operaio l'otto marzo nasce diciamo all'interno dell'internazionale socialista quindi ma il femminismo non è stato soltanto questo lo sappiamo benissimo insomma non è stato soltanto socialista e comunista o anarchico è stato anche un femminismo borghese anzi la parola femminismo fino agli anni settanta sostanzialmente all'interno per esempio del circuito mediatico del pc per dire una cosa vicina a noi era considerata quasi una parolaccia cioè una cosa che rimandava a quelle signore borghesi di inizio secolo le dame ci fu un congresso della donna italiana credo nel 1908 in cui addirittura una appartenente alla casa reale diede il suo poi c'era la marchesa il presidente questo panorama un po' diciamo da dammi di san vincenzo un pochino più più aperte più tolleranti e invece poi dall'altra parte c'erano appunto le operaie c'erano le donne in lotta certo c'era una qui il discorso per me sarebbe enorme c'era questa prevalenza della categoria della classe rispetto a quella del genere ovviamente cosa che tra l'altro per esempio in Italia tra anni 50 e 60 suscita diversi contrasti tra le donne per esempio non solo dell'Udi ma le stesse donne del partito comunista le due cose all'epoca già non erano proprio perfettamente identiche e appunto gli uomini riguardo a una presunta specificità rivoluzionaria del soggetto femminile cioè le donne potevano essere oggetto di un discorso rivoluzionario specifico o dovevano essere come dire racchiuse sussunte all'interno della grande categoria della classe e poi quando avremo fatto la rivoluzione penseremo pure all'emancipazione femminile questa è una grande questione molte donne invece dicevano no bisogna cominciare subito e cominciare dalla famiglia per esempio cominciamo a cambiare i rapporti anche all'interno dei compagni c'è un libro di una sociologa che si chiama se non sbaglio Silvana Grasso del 74 che si chiama compagno padrone ed è interessante perché è una ricerca sulle relazioni di genere nel privato le relazioni affettive all'interno del mondo diciamo della sinistra soprattutto del mondo dei movimenti all'epoca si chiamavano extra parlamentari dove alla fine emergeva una certa continuità diciamo nella mentalità patriarcale il famoso poi angelo appunto del ciclostile l'unione sovietica attraversa a sua volta diverse fasi cioè se noi prendiamo Alexandra Kollontai negli anni venti che è paladina naturalmente di una ma neanche emancipazione liberazione femminile anche con la sua vita col suo comportamento la libertà che pratica quotidianamente in quanto donna anche dal punto di vista sessuale e poi quello che succederà a partire dagli anni trenta con la restaurazione staliniana quindi addirittura la decorazione per le madri di figli numerosi insomma e poi di nuovo negli anni sessanta con altri cambiamenti ancora quindi anche lì bisognerebbe ovviamente distinguere le varie fasi ci sono per esempio queste donne sovietiche che appartengono per esempio voi sapete che la donna premio nobel sull'etana Alexievich ha scritto un libro bellissimo sulle combattenti sovietiche nella seconda guerra mondiale sulle donne che hanno combattuto nella seconda guerra mondiale intervistandole e quindi conquistandosi con questo ovviamente un protagonismo in quanto donne non soltanto in quanto patriote sovietiche del percorso che poi in parte anche di cancellazione di quell'esperienza specifica di genere è stata fatta negli anni successivi nella memoria collettiva dell'Unione Sovietica questo è molto interessante sono tutte questioni che adesso purtroppo non ho la possibilità di approfondire naturalmente mi rendo conto che sono sempre fermo a una sola domanda e devo correre allora tantissime altre domande molto interessanti allora come si costruisce credo Lea me lo chiedeva una mascolinità contemporanea dopo tutti questi decenni di femminismo ecco a me capita di fare anche dei laboratori nelle scuole da tanto tempo sui temi degli stereotipi di genere della violenza maschile contro le donne più in generale insomma dell'identità maschile e ho sempre pensato io come altri insomma che facciamo queste cose quando vai lì che non ha nessunissimo senso partire col dire ah bisogna essere gentili bisogna rispettare le donne una donna non si picchia neanche con un fiore eccetera eccetera è chiaro non sto dicendo che come dire invitare al rispetto sia sbagliato però questo questa impostazione del discorso tutta giocata diciamo su una specie di autocontrollo per bene del maschio nei confronti della donna prima di tutto suona immensamente antipatica dal punto di vista di chi la riceve e quindi già staccano la spina e tu puoi parlare per altre tre ore e quelli già stanno pensando ad altro ma al di là di questo aspetto pratico che comunque non è senza significato mi sembra anche discutibile perché evita invece di mettere in discussione proprio quelle dinamiche quell'economia diciamo psichica e culturale politica della mascolinità che invece sarebbe dal mio punto di vista il centro del discorso quello che io alla fine dico come messaggio proprio essenziale a questi ragazzi noi non siamo venuti qui a dirvi che cos'è un maschio buono e cos'è un maschio cattivo dovete cambiare dovete essere come me io ho capito tutto adesso vi spiego come fare per diventare migliori eccetera eccetera ma semplicemente sarei contento se alla fine di questo discorso vi foste un pochino resi conto che quella che a voi sembra una libera scelta di un modello di mascolinità che tende verso in realtà non è tanto libera cioè che esiste una enorme pedagogia ortodossa dei generi che passa attraverso canali infiniti e spesso anche come dire obliqui e subliminali per cui noi crediamo di fare delle scelte tra virgolette libere ma in realtà stiamo semplicemente recitando un copione e veniamo poi premiati gratificati se lo facciamo bene oppure al contrario sanzionati se non lo facciamo bene allora io non dico che questo sia sbagliato in sé perché voglio dire ognuno sceglie la strada che crede sempre ovviamente in un ambito di rispetto della libertà reciproca però mi piacerebbe che ognuno come dire si fermasse almeno per cinque minuti per chiedersi se davvero noi vogliamo essere quella cosa lì cioè visto che nessuno ci ha mai chiesto il nostro parere diciamo se saranno d'accordo o no ma abbiamo una pressione da quando siamo nati praticamente per impersonare quella figura eccetera facciamolo consapevolmente avremo fatto come dire poi magari uno dice ok mi sta bene questi vantaggi del patriarcato mi stanno pure bene ci sto però perlomeno l'avremo fatto consapevolmente come una scelta non come un qualcosa come dire che stiamo recitando quasi essendo agiti da codici da modelli e da linguaggi che neanche sappiamo e neanche riusciamo bene a individuare a far emergere poi appunto per quella invisibilità di cui si parlava non so se ho risposto probabilmente anzi sicuramente no per quanto riguarda i modelli che venivano dagli Stati Uniti nel dopoguerra adesso scusate vado un po' tagliando con l'accetta ma io ricordo per esempio uno storico del cinema italiano anzi qui dell'Università di Bologna Guido Fink che diceva quando venne in Italia il film Morte di un commesso viaggiatore ed era la fine degli anni 40 c'era questo personaggio depresso che è un grande film in realtà anche sulla crisi dell'identità maschile nell'America del dopoguerra c'era questo personaggio depresso che parlava della sua depressione appoggiato a un enorme gigantesco frigorifero e parlava un po' della sua sventura eccetera allora per il pubblico italiano quell'enorme frigorifero lì altro che sventura altro che miseria altro che povertà cioè sembrava il paese di Bengodi perché era una cosa che si poteva nessuno aveva mai visto o quasi nessuno aveva mai visto dal vivo quindi come dire c'è tutto un una ricezione poi di questi modelli mediatici statunitensi nell'Italia degli anni 40 e 50 e per lunghissimo tempo che devono essere riportati come dire al contesto di arrivo di quei messaggi lo stesso tanti modelli di femminilità per esempio che nei film americani si vedono negli anni 40 e 50 e che a noi oggi sembrano ben poco rivoluzionari ma rispetto ai modelli prevalenti nella società italiana dell'epoca erano semplicemente rivoluzionari lo stesso discorso è stato fatto per esempio a proposito dei cosiddetti fotoromanzi che sono qualcosa che nasce un grandissimo fenomeno mediatico diffuso soprattutto tra le fasce più popolari della popolazione femminile quindi anche qui il discorso sarebbe lungo ma certamente c'è un problema con diciamo così la guerra fredda quindi c'è una mediazione di questa modernità statunitense di cui tutto sommato anche il passaggio che vi ho letto è un segnale abbastanza chiaro cioè c'è un'accettazione di certa modernità perché tutto sommato poi è funzionale anche a riprodurre un sistema di potere democristiano che dal 54 con la segreteria Fanfani in avanti si trasformerà radicalmente rispetto al centrismo dei gasperiano quindi una nuova leva di tecnocrati arriveranno arriverà Enrico Mattei arriveranno insomma tanti imprenditori che poi negli anni 60 costruiranno il cosiddetto parastato quindi un tipo diverso di rapporto clientelare di legittimazione del potere in tutto questo una certa modernità viene in qualche modo accettata anche nei rapporti di genere purché naturalmente non si fuoriesca da un certo da un certo ambito però questo fa sì che già appunto questa avventata di modernità possa portare a pericolosi interrogativi pericolosi segnali c'è un film come Divorzio all'italiana di Pietro Germi dai primi anni 60 è una bomba lanciata nella società e nella mentalità italiana perché pone un tema di cui si parlava ma di cui non si riusciva mai a venire a capo fino a 70 quello del divorzio che è visto ancora come qualcosa di assoluto quando nel 74 poi ci sarà il referendum e per esempio il PC era molto preoccupato e tentò fino all'ultimo di trovare un compromesso con la democrazia cristiana proprio per evitare il referendum si vide tutti scoprirono un'Italia che era molto più diciamo tra virgolette avanzata dal punto di vista anche dell'identità di genere delle relazioni di genere di quello che i politici ma gli stessi intellettuali pensavano però fu Pierpaolo Pasolini a dire all'indomani del referendum ma attenzione perché questo non vuol dire che noi siamo diventati più liberi questo semplicemente è il segnale della diffusione ormai a macchia d'olio di una certa mentalità liberale neocapitalista di importazione americana che non abbia più bisogno di Dio, patria e famiglia per imporsi per cui come dire il divorzio ormai è un cascame del passato cioè per la riproduzione del sistema di nuovo ingiusto gerarchico di potere non ha più bisogno di questo si serve di altro Pasolini non a caso esagerando un po' come faceva lui chiamava il consumismo il nuovo fascismo non a caso anche qui scusatemi davvero ci sarebbe molto da dire la questione delle donne diciamo aristocratico comunque altolocate che erano più libere nel fascismo questo naturalmente rimanda a una questione enorme negli studi di genere che è quella che da qualche anno si insiste a chiamare intersezionalità cioè cercare di incrociare le categorie del genere ma anche quelle della classe e della cosiddetta razza nello studio dei soggetti per cui ovviamente quando noi guardiamo allo scenario fascista per tornare all'esempio che facevamo prima noi vediamo non so una Edda Mussolini poi Edda Ciano che era un modello di femminilità assolutamente eterodosso rispetto alla stessa ed era la figlia del duce scusate se è poco ma in qualche modo nelle alte sfere diciamo così della società ovviamente questo ci si poteva permetterlo da questo punto di vista c'è un film che io per esempio ho utilizzato molto anche a lezione degli anni scorsi che si chiama Terra Madre che è un film degli anni 30 adesso non mi ricordo esattamente l'anno che appunto è molto significativo da questo punto di vista perché alla fine trionfa come dire la genuina figlia della terra contro questa 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 genia degenerata dell'aristocrazia urbana è vagamente vagamente come dire agnostica rispetto al fascismo insomma quindi c'è lì si intrecce il ruralismo quindi la campagna per il ritorno alla terra ma anche al ritorno dei valori della famiglia patriarcale autenticamente italiana abbiate pazienza sto davvero tagliando ma sul piano della mascolinità questo è molto interessante quello che con a un certo punto a metà degli anni 60 degli anni 90 scusate ha chiamato la mascolinità egemonica cioè noi dobbiamo vedere ovviamente il panorama delle varie identità maschili come un panorama plurale in cui esistono diverse mascolinità ovviamente tante quanto sono gli uomini probabilmente perché poi appunto ognuno performa a suo modo ma ognuno è anche un po' il prodotto dell'intreccio appunto della propria posizione sociale del livello di istruzione della provenienza geografica della propria biografia eccetera eccetera quindi ognuno è come dire ogni uomo è alla fine un conglomerato unico di tutte queste cose ogni uomo ma diciamo in generale in media facendo un discorso naturalmente un po' a volo d'uccello è importante vedere per esempio come alcune volte genere e classe all'interno del maschile non seguono lo stesso percorso gerarchico cioè un uomo un lavoratore manuale per esempio molto spesso è tradizionalmente considerato più virile di un professore universitario per esempio oppure di un dentista o di un di un avvocato perché è muscoloso lavorate rude eccetera quindi in persona molto meglio quelli allora è interessante vedere come questa specie di certificazione di virilità in qualche modo sia forse non proprio una compensazione diciamo dello svantaggio sociale ma sicuramente una valuta diciamo così una risorsa che lega anche quegli uomini a farsi guardiani di un sistema gerarchico di genere con lo chiama il dividendo patriarcale cioè questa posizione di privilegio rende praticamente ogni uomo per il solo fatto di essere nato uomo e quindi di fruire dei privilegi che vengono in questa società agli uomini in quanto tali rende li lega diciamo così alla logica di riproduzione del sistema cioè li spinge a farsi appunto difensori del sistema stesso riproduttori di questo sistema perché ne traggono vantaggio quindi il dividendo come quello che si distribuisce nelle società per azioni questo è adesso veramente l'ho detto troppo velocemente ma è diciamo uno scenario di interazione tra la dimensione della classe e la dimensione del genere all'interno delle stesse mascolinità e infine infine scusate ma perché davvero si è fatto tardi almeno per me e vorrei magari se ci sono ultime domande sarei contento di darvi ancora un po' di spazio la questione della parità o della diversità ecco su questo purtroppo c'è come dire anche qui una recessione da parte di un certo senso comune che fraintende il discorso cioè molto spesso anche nei laboratori di cui parlavo prima insomma parlando con persone di queste cose che magari non se ne occupano per mestiere ovviamente c'è questa idea per cui l'uguaglianza sia l'opposto della differenza per cui chi parla di uguaglianza chi parla di parità viene qui perché è un grande complotto sostanzialmente per omologarci tutti per farci diventare tutti con la stessa divisa e quindi c'è uguaglianza uguale scusate il gioco di parole omologazione quindi una uniforme uniformazione in realtà ovviamente sappiamo benissimo che il discorso è completamente fuorviante anche dal punto di vista semantico perché uguaglianza non è l'opposto di differenza è l'opposto di disuguaglianza che è una cosa ben diversa uguaglianza nel senso di pari livello di libertà pari livello di cittadinanza di partenza di diritti soprattutto è qualcosa che non solo può ma deve coniugarsi con differenza perché se non ritorniamo ancora una volta a quella costruzione diciamo paleo contemporanea di cittadinanza quello del cittadino della rivoluzione francese c'è l'uomo in grado di portare le armi quindi di difendere la patria e quindi il citoyen l'unico titolato cioè la dichiarazione universale degli diritti dell'uomo tutti gli uomini nascono in libri uguali poi però le donne si scopre che non sono uomini gli schiavi neri si scopre che non sono uomini cioè alla fine questo uomo era appunto il maschio possibilmente di classe media comunque in grado diciamo di portare le armi allora che diventa poi il soggetto universale della dimensione politica contemporanea in tutto l'Occidente allora se non vogliamo tornare a questa unica figura come dire iconica che riassume tutta l'umanità nascondendo la propria parzialità noi dobbiamo coniugare anzi moltiplicare e valorizzare la differenza con i diritti con la cittadinanza e con l'uguaglianza che appunto non vuol dire uniformare ma vuol dire riconoscere gli stessi riconoscere prendersi avere tutti e tutte gli stessi diritti e quando dico tutte e tutte qui oggi il tempo è stato tiranno ma io oggi ho parlato quasi soltanto di genere maschile genere femminile ma ovviamente il discorso dovrebbe moltiplicarsi per gli altri generi per gli orientamenti sessuali l'interseccionalità vorrebbe dire sicuramente anche questo ma abbiate pietà il tempo è stato quello che è stato e scusatemi se davvero ho trattato molto velocemente tutte queste questioni forse abbiamo tempo per qualche altra sono tre tre prenotazioni Gianfranco Castelluzzo che è uno studente del corso Federico Palmieri un nostro dottorando modernista con fughe verso l'ottocento e Stefania Menditto un'altra studentessa del corso prendiamo anche in questo caso le tre e manteniamo l'obiettivo di chiudere le 19.30 altrimenti rischiamo di sequestrare il professore allora appunto vi chiedo ovviamente di essere rapidi Gianfranco Sì buonasera professore è un onore per me ascoltare anche poi una domanda semplice ma al tempo stesso complessa poco politicamente corretta devo dire allora di solito in altri ambiti si fanno domande esistenziali le domande esistenziali sono chi siamo da dove veniamo e dove siamo diretti allora da dove veniamo vengo da una donna una donna mi ha partorito chi siamo ancora più genere non c'è un'identità precisa ma soprattutto dove siamo diretti grazie andiamo direttamente a seguire Federico grazie sì la mia domanda è specifica sul genere maschile lei ha prima scritto ha ripetuto anche oggi che la storia degli uomini è invisibile no risa tale dal romolo dominante che l'uomo ha esercitato nel corso dei secoli quando non è associato al potere appunto l'uomo scompare della dimensione pubblica tant'è che è lo stesso Tosh che ha citato suggeriva di indagare la sfera privata la dimensione privata il rapporto la sfera domestica il rapporto dell'uomo con la moglie e ora gli studi sulla mascolinità hanno riconosciuto delle caratteristiche al genere maschile che cambiano abbiamo visto da seconda dei tempi dei luoghi dei ceti molto interessante dal mio punto di vista lo studio di Tosh sulla mascolinità metà vittoriana in cui mostra le differenze a seconda dei ceti la borghesia nobiltà e working class la mia domanda che è una curiosità come le donne e il genere femminile sta sviluppando una certa consapevolezza o rivendicazione dei propri diritti ma appunto consapevolezza del processo che ha portato alla costruzione del genere nel corso dei secoli io mi chiedo può servire un simile processo anche all'uomo voglio dire gli studi hanno dimostrato che è un unico discorso un unico linguaggio che ha prodotto i due generi il genere maschile e il genere femminile ora se anche l'uomo prende consapevolezza dal punto di vista culturale che i suoi comportamenti come ha detto lei poc'anzi non sono naturali ma frutto prodotto di una costruzione sedimentata nel corso dei secoli questo quanto può davvero dal punto di vista psicologico alleggerire o essere positivo faccio degli esempi l'uomo che sente ancora il peso di dover portare il pane a casa come si suol dire ho visto situazioni in cui l'uomo ha perso il lavoro la moglie aiutava la moglie dava una mano però diceva mio marito è quasi in depressione perché sente questa pressione sociale l'uomo deve fare così altrimenti non è uomo altrimenti non è maschio oppure aiutare in casa i lavori esserci piena parità anche nelle faccende domestiche ecco magari se tutti noi uomini capissimo davvero che non c'è nulla non c'è un ordine naturale nel come comportarsi delle caratteristiche naturali sarebbe positivo a livello culturale e appunto anche psicologico grazie e le anzi da prestazione Stefania sì buonasera io avevo una domanda sul sulla questione della verità relativamente al consenso dell'opinione pubblica nel processo di integrazione europea mi spiego meglio oggi assistiamo a quasi un'identificazione della politica della Merkel con la Germania sappiamo che la Germania comunque diciamo il carro trainante dell'Europa è che le politiche che sono adottate sono delle politiche piuttosto severe però questo processo e mi riferisco in particolare all'entrata nell'euro è iniziato quando comunque c'erano degli uomini che guidavano la Germania mi riferisco a Kohl mi riferisco a Schroeder eppure forse perché ero troppo giovane e magari non seguivo tantissimo tutto questo discorso però non ricordo di aver mai sentito accuse dirette alla persona in quanto uomo ma più che altro al sistema comunque alle decisioni che venivano prese quindi volevo capire quanto se ci sia proprio un'influenza del ruolo della donna quindi se venga colpevolizzata la donna in quanto tale per diciamo queste politiche che non sono sempre condivisibili o se è semplicemente un fatto legato diciamo alla situazione al contesto che stiamo vivendo non so se è chiarissima la domanda è un po' complicata va bene allora ascoltiamo la replica del professore a questo punto ma devo confessare che l'ultima domanda allora forse ho capito ma non ne sono sicurissimo perché si parlava della Merkel ma anche di uomini in Germania in Europa provo a rispondere come se avessi capito perfettamente diciamo così magari ci prendo ci sono se io mi ricordo per esempio Margaret Thatcher che era questa leader come sappiamo a partire dalla fine degli anni 70 che poi è stata una degli alfieri della riscossa neoliberista assieme poi a Reagan eccetera eccetera ecco lei è un esempio molto spesso citato di come mettere una donna a capo di un paese di un paese molto importante naturalmente come la Gran Bretagna non cambia necessariamente il quadro generale della questione cioè che il fatto di essere una donna di per sé se poi fa delle politiche o comunque ha una visione non tanto diversa da quella di altri uomini che l'hanno preceduta poi alla fine non cambia la questione il punto però dal mio punto di vista e questo sicuramente è vero però il punto come dire visto da da una prospettiva di mascolinità è che spesso le donne sono le donne di potere diciamo così sono attaccate non soltanto perché fanno magari delle cose che non piacciono per cui si dice ah ma tu capisci hai fatto sta cosa sei una bestia qualsiasi cosa si possa immaginare e anche ovviamente insulti gravi ma si tira fuori per come dire offendere maggiormente quel soggetto la sua appartenenza di genere sappiamo benissimo non so l'ex presidente della camera Boldrini per esempio ma la stessa Liniana Segre quanto siano state oggetto di incredibili insulti misogini con una frequenza e con una volgarità ma non è solo volgarità nel senso di maleducati con una violenza misogina e sessista veramente allucinante questo ci dice quanto nel senso comune il fatto che quella persona fosse una donna in qualche modo dava il destro per una offesa per un surplus di insulto e quindi quella parte di identità di quella persona che riguardava la sua appartenenza a genere femminile veniva percepito come un lato diciamo vulnerabile dal punto di vista della reputazione della rispettabilità e quindi più facilmente come dire offendibile questo la dice ancora lunga su come dire il clima di misoginia costituzionale in cui noi viviamo che ripeto non è cioè la misoginia nel nostro sistema politico come altri sistemi politici e non parlo del Parlamento dico proprio nella cultura politica del Paese è un pilastro di questo ordine politico non è un accidente non è come dire uno scarto una cosa marginale di qualche maleducato di qualche ignorante che ancora non ha capito come si deve parlare come si deve comportare cioè è proprio che le donne siano delle cittadine serie B, C, D, Z eccetera è di fatto una realtà fondante del nostro ordine politico e il problema è che gli uomini e qui vengo spero anche un'altra domanda che mi è stata fatta come dire si tengono stretta questa disuguaglianza cioè questo piedistallo della supremazia per cui la misoginia naturalmente ha il compito di come diceva Virginia Woolf nel 1929 abbassando la statura del soggetto offeso cioè la donna l'effetto è quello secondo chi procede in questo modo di innalzare la propria statura cioè di apparire diceva Virginia Woolf due volte più alti agli uomini a pranzo e a cena rispetto a quello che sono quindi la donna diventa la donna quella di maiuscola diventa uno specchio magico in cui attraverso il registro misogino il codice misogino io come maschio posso vedermi due volte più alto di quello che sono questa distorsione ottica che è comunque una distorsione perfettamente politica e ovviamente ha conseguenze politiche enormi come dicevamo anche adesso gli uomini la percepiscono come una necessità non come un effetto secondario come un lato folcloristico ma come una necessità per sentirsi in equilibrio per la loro salute identitaria cioè è come se un uomo senza quel piedistallo che gli garantisce un vantaggio rispetto a una donna si sentisse male si sentisse in difficoltà cioè come se non si riuscisse a immaginare appunto una situazione di uguale libertà e quindi di uguale statura di uguale diritto cioè come se non fossimo mai usciti come genere maschile da un ordine mentale come dire monarchico o addirittura assolutistico facessimo fatica ad accettare un ordine repubblicano in cui come dire siamo davvero cittadini a pari titolo di questo sistema e di questa società credo che noi come uomini il genere maschile non ha elaborato il lutto di questa morte della virilità politica quale era stata diciamo esaltata per tanti decenni appunto dalla fine dell'ottocento fino agli anni settanta cioè oggi non è più possibile dire che le donne hanno un cervello più piccolo che pesa meno e quindi non sono adatte a governare o a dirigere o a insegnare eccetera eccetera non è più possibile come era possibile settanta ottanta anni fa e questa perdita la perdita di questa arma retorica misogina così spietata per gli uomini è una ferita nel senso che è come si sentissero disarmati di fronte a quello che continuano a percepire come un soggetto antagonista come un soggetto nemico cioè c'è una concezione quasi aritmetica della libertà per cui un metro guadagnato dalle donne è un metro perso dagli uomini e questo è qualcosa di incredibile allora naturalmente è molto importante fare attenzione a come dire i livelli di libertà e al rispetto dei diritti delle donne ma anche di altri tanti altri soggetti che non siano come dire la figura dominante di uomo maschio di classe media eterosessuale bianco eccetera eccetera ma secondo me lo si fa ancora più efficacemente se si decostruisce dall'interno la dinamica che fa percepire agli uomini questo livello gerarchico di disuguaglianza come qualcosa di assolutamente necessario senza il quale si sentono veramente persi come uomini allora fin quando non usciremo da questa di questo circolo vizioso ma potranno finire diecimila patriarcati ammesso che sia davvero così ma ci troveremo secondo me ancora ad avere ad avere dei problemi a trovarci di fronte ancora a discutere di deficit di libertà di cittadinanza di soggetti che dovrebbero essere invece liberi e titolari di diritti a pieno titolo io penso che questo questa specie di distanza di sicurezza gerarchica che gli uomini implicitamente perché poi non lo dicono mai naturalmente considerano indispensabile per stare bene per sentirsi tranquilli derivi prima di tutto da una antica ma sempre attuale grandissima paura delle donne come dicevo all'inizio cioè gli uomini hanno sempre saputo che le donne non è vero che sono il sesso debole che gli uomini hanno una che le donne scusate hanno una grande forza hanno un grande potere soprattutto nel potere di generare di dare la vita qualcosa che noi uomini non abbiamo e forse non avremo mai o finora sicuramente non ce l'abbiamo quindi come dire costruire artificialmente tutte queste grandi impalcature storiche per cercare di compensare questo svantaggio questo sì naturale che come genere maschile abbiamo rispetto alle donne io non credo che sia un'operazione riproducibile all'infinito nel futuro a meno che non accettiamo come dire come danno collaterale di questa insicurezza politica maschile una ferita enorme ai livelli di libertà e democrazia della nostra società cosa che io credo dovremmo considerare invece assolutamente inaccettabile va bene forse siamo costretti diciamo a a chiudere qui anche a malincuore sinceramente Sandro grazie veramente tantissimo a nome di tutte e di tutti veramente una bellissima lezione ecco lo dico proprio come dire con ingenuità grazie affascinante e ricchissima va bene mi auguro che ci siano occasioni anche abbastanza prossime di riprendere le fila di questo volentieri benissimo grazie mille grazie a tutti arrivederci grazie arrivederci buona serata arrivederci arrivederci grazie grazie a tutti